In questi giorni si è parlato molto di questo reddito di dignità, una sorta di reddito di cittadinanza siciliano. Ci sono punti che non sono stati ben chiediti? Intanto, malgrado i programmi del governo Meloni e Schifani, la situazione in Sicilia sulle percentuali di disoccupazione è assolutamente allarmante. A seguito dell'evoluzione del reddito di cittadinanza ben 40.000 famiglie in Sicilia sono state escluse da qualsiasi tipo di sostegno e quindi sono emarginate, non hanno possibilità di sostentamento alcuno. E quindi noi come Partito Democratico abbiamo depositato al Parlamento siciliano una proposta che una volta tanto emula altre regioni che fanno bene. In questo caso parlo della regione Puglia che ha concordato con il Parlamento europeo una misura che utilizza i fondi extra regionali, il Fondo Sociale Europeo per intenderci. Quindi senza gravare in alcun modo sul bilancio regionale si darebbe una risposta concreta a tante e tanti siciliani che oggi non hanno mezzi e risorse per portare avanti la propria famiglia perché ricordo a me stesso che purtroppo la situazione in termini di occupazione specialmente per i giovani, per le donne e per gli over 50 in Sicilia assume percentuali assolutamente allarmanti che in alcun modo la politica regionale è in grado di affrontare.